14 di settembre, più di 15 come on sono stati fermati di migranti di Haiti cercando di uccire della città di Tapaciulla. Sono stati arrestati dalle autorità di migrazione e guardia nazionale. Migranti inconformi e fastidiosi hanno mostrato la loro rabbia lanciando pietre e bottiglie di acqua alle autorità. Sono stati tutti restituiti al confine che conectano con Guatemala e di nuovo inizieranno la strada il sonno americano. Il giorno successivo, 15 di settembre, inizia di nuovo un'altra protesta con un cammino alle stazioni migratorie del XXI secolo per esigere libero passaggio. Sono Oscar e Blu, giornalista freelance di Tijuana Baja California. inizia di Tijuana, Mèxico per Borre Network News. Dio benedica in nostro paese, Mèxico, Italia, and God bless the United States of America. Pace e Amore, perché il tuo paese è primo. non l'att їхare, non l'attivare, non sono l'attività, non stiamo lavorando. Non si non le vanno! Grazie a tutti